Interviene per salvare una donna dalla cieca violenza del compagno e viene afferrato al collo, scaraventato contro un muro e colpito violentemente con numerosi pugni in pieno volto. La vittima è un 62enne bassanese che lo scorso sabato attorno alle 20.30 passava lungo via Beata Giovanna, proprio mentre un marocchino di 22 anni, Samir Bozerdi, stava litigando con la compagna Silvia Deodoro Bassanese di 26 anni. Una litia talmente brutale da convincere i 62enne ad intervenire e alcuni passanti a chiamare le forze dell'ordine. Proprio l'arrivo dei carabinieri ha scongiurato il peggio, ma non ha fermato la furia di Bozerdi, che ha reagito colpendo anche i militari con l'aiuto della stessa Deodoro, che ripetutamente ha colpito la gazzella dei carabinieri con calci e pugni. Sul posto sono intervenute altre due pattuglie, l'una del commissariato e l'altra della polizia locale. Accompagnati in caserma, i due in evidente stato di alterazione hanno ripetutamente offeso gli uomini delle forze dell'ordine e Silvia Deodoro è arrivata persino a colpire un agente del commissariato all'altezza dell'addome. Durante la discussione dal reggiseno della donna è uscita una barretta di 20 grammi di hashish, episodio dopo il quale è stata perquisita l'abitazione della 26enne, in cui è stata trovata un'altra piccola quantità di stupefacente. I due sono stati posti agli arresti domiciliari. Questa mattina l'udienza di convalida Baudersi è stato posto agli arresti domiciliari mentre Radio Deodoro è stata rimessa in libertà.